benvenuti alla resegna stampa cari telespettatori di fano tv oggi venerdì 11 giugno questa è fano tv sul canale 17 del digitale terrestre in tutta la regione Marche c'è occhio ai giornali che è una rassegna stampa commentata con alcune pagine dei quotidiani carlino e corriere adriatico che abbiamo già selezionato per voi c'è molta cronaca parleremo ovviamente anche di altro ma come di consueto andiamo a vedere il cartello del giorno con il santo ma oggi più che santo la chiesa ricorda il sacratissimo cuore di Gesù il sacro cuore di Gesù pensaci tu 526 l'alba 2055 il tramonto dal sito della protezione civile delle Marche oggi come vedete abbiamo avremo cielo sereno su tutta la costa qualche addensamento nuvoloso nel primo pomeriggio con rovesci soprattutto sui sibillini tutto circoscritto lì sabato 12 domani cielo sereno poco nuvoloso domenica 13 altrettanto cielo sereno e poco nuvoloso poi c'è l'aria africana pressione africana che porterà ancora bel tempo e caldo evidentemente anche per la prossima settimana e a proposito di bel tempo a proposito di caldo chi può la settimana prossima così come questo fine settimana potrà godersi un po' di sole un po' di mare e allora noi oggi andiamo ai bagni Alda che si trovano a Ponte Sasso dove c'è collegato con noi in diretta Marco il bagnino ma che è anche titolare giusto Marco? giustissimo ecco allora vedo già un po' di gente che cammina questa mattina fa un po' di moto insomma si tiene in allenamento com'è andata la giornata ieri? molto bene molto bene un po' ventilata ma poi dopo un bel caldo una bellissima giornata e oggi immagino è stata a barbara, è stata a fluenza immagino viste le premesse dal sole dietro da questo scenario splendido anche oggi sarà un'altrettanto bella giornata che dici? sì 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 oggi anche domani ci sarà proprio picchi di caldo percepiti fino a 37 gradi perciò sarà dura sarà dura ecco quindi bel tempo per questi giorni stavo notando a differenza degli altri collegamenti con i tuoi colleghi che lì dalle parti di Ponte Sasso le scogliere ci sono e non ci sono si vedono e non si vedono insomma ci sono ma non si vedono perché ormai sono talmente sotto che non funzionano più abbiamo un'erosione fortissima in tutta questa zona sono diversi anni che ci promettono che vengono a fare dei lavori ma sono solo promesse spero che per settembre qualcosa si muova ma perché naturalmente lo ricordiamo per chi insomma non conosce i meccanismi ma le scogliere significa anche proteggere la costa quindi evitare che appunto le mareggiate facciano danni soprattutto anche in inverno danni che poi si pagano anche per tutto il resto dell'anno giusto Marco mi pare che deve sintetizzato in maniera molto veloce grazie allora ci vediamo domani grazie a voi buona giornata grazie Marco allora andiamo a vedere subito i giornali cominciamo dal Carlino di Pesaro restiamo sul lungomare però da Ponte Sasso ci spostiamo a Pesaro perché in Viale Trieste che è il viale più importante della città pesarese ci sono i nuovi arredi che però insomma con il fatto dell'isola pedonale con i nuovi arredi appunto e queste lanterne qualcuno ha un po' da ridire ma questo è normale quando si cambiano le cose ci sono delle modifiche questo sta ci sta sta nelle cose lanterne isole polemiche Viale Trieste ecco gli arredi da domani i tratti pedonali nella foto anche l'assessore Belloni poi arresto bis per l'imprenditore Concetti in manette per reati fiscali e riciclaggio indagati anche la moglie e altri 15 sequestri per 700 mila euro a San Donato in Taviglione siamo sempre comunque qua nel pesarese dentro terra precipita nel dirupo per circa 50 metri una donna si salva miracolosamente ai bagni due palme invece un malore in acqua colpito una pensionata che è morta storia e arte Palazzo Ducale dove la prefettura apre le porte alle visite guidate il lutto Cinzia Montani addio alla voce delle radio pesaresi e poi le vaccinazioni nelle farmacie slittano di una settimana e le marche verso la zona bianca ma con il timore della variante brasiliana cimitero islamico l'area non si non si è riservata la lega critica le scelte del comune sbagliata l'idea degli spazi esclusivi e poi la coppia che scoppia trova in camera l'amante di lui e giù botte l'ex moglie arriva in casa succede di tutto l'uomo le rompe il naso e finisce a processo Corriere Adriatico vigilanti per spiagge e locali si parla dunque di sicurezza in spiagge la movida sicura e senza sembramenti passa anche per i presidi serali le presenze sono rafforzate il sindacato di polizia dice le associazioni hanno ragione i controlli devono avere regole chiare e sanzioni certe mentre un premio per l'architettura green è andato alla Brancati l'Oscar delle scuole poi parleremo nella nostra rassegna anche di cantieri stradali stop nei fine settimana per soprattutto evitare gli incolonamenti e poi pedaggi dimezzati parliamo di questa buona notizia per gli automobilisti che viaggiano nel tratto di A14 soprattutto nel sud delle Marche colta da malori in mare muore un'anziana turista Dio accinzia se spenta la voce storica della città e poi precipita nel dirupo salvate in extremis dopo un volo di 50 metri la cassaforte di famiglie invece in guai un imprenditore arrestato Concetti altri 16 sono indagati la finanza contesta reati del crack dal crack al riciclaggio e poi Palazzo Ducale finalmente apre alle visite ed è solo l'inizio. Prima di parlare di virus, di vaccini e quant'altro di pandemia andiamo a vedere quelle che sono le notizie, le pagine locali con la cronaca si è spenta una grande voce della città, la città è quella di Pesero una grande voce è quella di Cinzia Montani Cinzia una vita trascorsa al microfono, titola il Corriere da due anni, da due anni, lottava contro una malattia il dolore di amici e colleghi lascia un vuoto terribile lavorava a Radio Incontro il cordoglio ovviamente degli amici e dei colleghi lo ricorda, la ricorda Luciano Pazzaglia per esempio oppure Bagazzoli, Roberto Bagazzoli così come Paolo Pagnini insomma in tanti, compreso il sindaco di Pesero Matteo Ricci e il vice Daniele Vimini Cinzia è stata una delle prime voci a raccontare la sua città i suoi personaggi, le sue storie sincera, ironica e con un bel caratterino dice Luciano Pazzaglia che ricorda anche le serate trascorse insieme e poi il cordoglio anche del sindaco dicevo ma Cinzia aveva scritto aveva scritto sulla sua barcheca lo scorso 11 maggio troppe volte ti chiedi perché proprio a te forse perché tu sei in grado di farcela l'ultimo saluto a Cinzia sarà domani mattina alla chiesa di Loreto a Pesero alle ore 10 la ricorda anche Beatrice Terenzi sul resto del cardino il titolo Cinzia Montani sconfitta dal male muore la voce delle radio pesaresi aveva 59 anni e le trasmissioni erano seguite da tanti pesaresi il cordoglio del sindaco Ricci occhio critico sulla città la sua ironia e i suoi post sui social sulla vita cittadina erano seguitissimi dal pubblico poi su questa pagina del resto del Carlino Davide Eusebi invece ricorda anche la lotta che sta portando avanti per la vita Felix ovvero Marco Felici è un Marco Felici è un ristoratore che nel 2012 quando ci fu il nevone fu colpito da un ictus proprio mentre stava spalando la neve del suo agriturismo una nevicata eccezionale che isolò tutta la provincia di Pesero Urbino impedendo ai soccorsi di arrivare in tempo da allora spiega il suo amico lo vedete nella foto mentre gli sta tenendo la mano il dito da allora Felix viveva in casa assistito dai suoi genitori ma recentemente è stato portato purtroppo all'ospedale San Salvatore in gravi condizioni ed è affidato adesso alle cure del reparto di neurochirurgia diretto dal dottor Agostini ma insomma lui quando poteva scrivere da casa con il computer scriveva Barcollo ma non mollo ora anche in questo momento sono in tanti a dirgli insomma di continuare a lottare Barcollo ma non mollo è la stessa frase che ripete spesso Chiara Mirante che ha a che fare anche lei con la sua salute precipita per 50 metri nel dirupo donna salvata e portata a Torrette di Ancona un gesto estremo a San Donato a Caprazzino un uomo nudo e un'auto a fuoco lavoro extra per i vigili è un articolo che scrive questa mattina su un Corriere Gianluca Murgia ci sono due fatti, due eventi il primo a Sasso Corvaro dove questa donna di poco più di 30 anni straniera dell'est avrebbe appunto tentato di farla finita lanciandosi da un bel vedere di San Donato siamo a due chilometri da Sasso Corvaro e la donna è finita in mezzo ai rovi che probabilmente hanno tuttito la caduta insomma un volo di 50 metri quindi è una cosa che senza quei rovi probabilmente l'epilogo sarebbe stato diverso ma insomma alla fine si è salvata mentre l'altro evento, l'altro episodio che racconta Murgia questa mattina sul giornale che riguarda appunto la cronache e l'impegno che i vigili del fuoco di Macerata Feltra hanno dovuto metterci oltre all'intervento di cui vi ho parlato poc'anzi è che questi vigili del fuoco sono stati allertati per un'auto che era andata a fuoco un'auto alimentata a GPL nel piazzale del cimitero di Caprazzino siamo vicino a Sasso Corvaro ora vicino all'auto seduta lì vicino una signora di 50 anni dell'est europeo con problemi mentali seri e anche evidenti ma quello che fa insospettire quello che non si capisce ancora perché stanno indagando i carabinieri di Lunano è che poco lontano oltre ciò che alcuni testimoni raccontano di aver visto un uomo nudo uscire lì vicino insomma a questa macchina, a questa donna che era lì seduta mentre quest'auto andava in fiamme nel pomeriggio invece l'addio all'imprenditore Alberto Pascucci quando parliamo di Pascucci parliamo di caffè il suo nome era legato da sempre è stato legato al caffè con la sua azienda di Monte Cerignone il funerale di Pascucci si terrà oggi alle 4 del pomeriggio alle 16 al santuario del Beato Domenico Spadafora e seguirà poi la tumulazione nel locale cimitero il sindaco di Monte Cerignone dice grazie a lui che molti concittadini sono potuti rimanere nell'entroterra e di fare quindi un buon lavoro senza andare a cercarlo altrove la cronaca ci porta di nuovo in spiaggia per questo dramma che si è consumato ieri pomeriggio nella spiaggia di Sottomonte a Pesaro era in acqua ieri pomeriggio a pochi metri dalla riva una zona sicura dunque con il bagnino che vigilava ma un'anziana turista originaria di Pesaro ma residente ora a Bologna è stata colta da malore e il cuore non le ha lasciato scampo nonostante i disperati tentativi di rianimarla ancora cronaca, ancora decessi è morto il conte Cacciaguerra Perticari Giancarlo era l'ultimo discendente della nobile famiglia legata anche a Rossini domani alle 14.30 il funerale nella chiesa di Sant'Egidio aveva 90 anni negli ultimi 20 si era speso per la chiesa ora Museo Venanzi aveva lavorato a Roma per molti anni andiamo invece adesso a Fossombrone perché sulla pagina della Valle del Metauro Roberto Giungi questa mattina racconta la disavventura di Savelli Renzo Savelli è uno storico di Fossombrone che adesso è ricoverato all'ospedale Celli di Cagli dove segue una terapia di recupero dopo le importanti fratture provocate dalla caduta la caduta in questione è quella da un terrazzino dove appunto Savelli insieme ad un geometra in un palazzo che si chiama Palazzo Bramasangue era per un sopralluogo e questo terrazzino a un certo punto ha ceduto e tutti e due sono volati giù hanno fatto un volo di 6 metri insomma si è vista brutta ora sta facendo riabilitazione e in questo articolo racconta un po' come si sente come sta vivendo queste giornate concetti arresto bis siamo sul Carlino di Pesaro di nuovo indagati la moglie altri 15 perquisizioni e sequestri per 700 mila euro indagine della finanza l'imprenditore in manette all'alba di ieri gli vengono contestati reati fiscali fallimentari e riciclaggio sigili anche ad una sua villa nel Mirino le consistenti distrazioni patrimoniali da 6 società fallite sono state spogliate praticamente di tutto e adesso apriamo la pagina della pandemia la pagina del virus e cominciamo dal resto del Carlino nazionale questa è la prima pagina che oggi è simile in tutti i quotidiani nazionali il titolo è aveva 18 anni morta Camilla Canepa la ragazza ricoverata domenica a Genova colpita da una trombosi dopo aver fatto il vaccino di Oxford ovvero il vaccino AstraZeneca mentre su AstraZeneca il titolo caos quindi caos AstraZeneca speranza il ministro non decide ora il CTS il comitato tecnico scientifico raccomanda di usarlo solo per gli over 60 ma resta il problema dei ragazzi che hanno già fatto la prima dose il governo dovrà ricalibrare la campagna vaccinale in base alle nuove indicazioni vedete si naviga a seconda di come va a seconda di come di come va la vaccinazione si naviga e si aggiustano le cose si aggiustano i fogliettini illustrativi si decide l'età più o meno 40 sopra sotto si giovani noi giovani addirittura gli open day venite tutti a vaccinarvi ai ragazzi con squilli di tromba tutti a vaccinarsi come ha fatto la povera Camilla e e questo purtroppo adesso sta mettendo un po' di nuovo non purtroppo per fortuna in discussione di tutto quanto nel senso che pare che si siano convinti questa volta che il rischio beneficio per i giovani soprattutto a questa età è troppo alto quanti la domanda che dobbiamo porci secondo me è quanti giovani 18 anni sono morti per il virus senza patologie pregresse andatelo a cercare e vedete se riuscite a trovarne uno quanti giovani sono morti invece a 18 anni per aver fatto il vaccino a seguito di un vaccino ecco fatevi questa semplice domanda e datevi poi una semplice risposta e non c'è bisogno di essere un esperto il titolo dal resto del Carlino di questa mattina muore a 18 anni dopo una trombosi riesplode la psicosi a strazeneca la dose nell'open day a Genova poi i dolori gli esami negativi in ospedale il ricovero insomma il calvario come si dice indaga adesso la procura nelle prossime ore l'autopsia il ritirato il lotto che è stato inoculato alla liceale ma non solo a una liceale perché c'è anche una 34enne che ora è ricoverata a Genova infatti quindi siamo sempre in Liguria è emerso il caso di una 34enne di Alassio vaccinata lo scorso 27 maggio con la prima dose di AstraZeneca è ricoverata all'ospedale San Martino di Genova con un livello basso di piastrine nel sangue si era ricatto insomma si era ricatto all'ospedale per un forte mal di testa ieri si è appreso che lo stesso giorno l'agenzia Ligure per la sanità ha sospeso in via precauzionale appunto questo lotto di AstraZeneca da cui erano state ricavate le dosi che erano state inoculate sia a Camilla che a questa 34enne di Alassio 81 flaconi ancora in giacenza in Liguria ma c'è un altro articolo che stamattina sempre su questa pagina vi voglio sottoporre voglio sottoporre alla vostra attenzione al vostro ragionamento al vostro senso critico cari telespettatori ed è questo il titolo è il 90% delle reazioni avverse sono lievi e 7 segnalazioni su 10 sono Pfizer ora andiamo a leggere senza annoiarvi con troppi numeri andiamo a leggere questo questo passo allora le segnalazioni gravi corrispondono al 10% del totale con un tasso di 21 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate attenzione indipendentemente dal tipo di vaccino della dose prima o seconda e dal possibile ruolo causale della vaccinazione quindi il dato un dato che è questo le segnalazioni gravi corrispondono al 10,4% del totale con un tasso di 21 eventi ogni 100.000 dosi 100.000 dosi quindi come se in una città come la nostra di Fano 50.000 abitanti tutti vaccinati con 100.000 dosi ipotizzando che insomma è escluso il Johnson che ne ha solo una di dose senza richiamo su queste 100.000 dosi 21 sono statisticamente con effetti eventi gravi ora AstraZeneca AstraZeneca solo agli over 60 qualcuno anche tra gli esperti lo aveva chiesto a gran voce non datelo ai giovani non datelo sotto ai 50 anni non datelo alle donne insomma tutta una serie di considerazioni che non sono state ascoltate hanno trovato un po' di spazio sui giornali poi spesso succede che vengono taciuti vengono messi a tacere questi che parlano un po' che vanno controcorrente e quindi e quindi andiamo avanti e si è andato avanti quindi AstraZeneca addirittura agli open day quindi figuriamoci figuriamoci gli under 60 ma che allora adesso viene fuori però perché come sempre in Italia ci serve il morto per prima di agire ecco scappa fuori una cosa che già sapevamo perché l'avevamo già letta stralletta sentita strassentita e poi scomparsa ovvero che cosa che AstraZeneca non è un vaccino per i giovani la stretta alla somministrazione del vaccino anglosvedese agli under 60 era già prevista l'AIFA lo aveva suggerito l'altro ieri in un parere riservato al CTS insomma come vedete io credo che in questa fase lo dico anche per quelli che continuano a pensare che io sia un un no vax io ribadisco che non sono un no vax ribadisco che i vaccini li devono fare soltanto nei 70 anni su quelli che corrono dei rischi ma tutti gli altri se il rischio non lo corrono secondo me a mio avviso per le informazioni che abbiamo è bene che non lo facciano poi ci sono tutte come dire tutto possibile nel senso che uno che vuole andare in vacanza dice io voglio andare in vacanza e quindi voglio vaccinarmi bene vaccinati corri il rischio e vai in vacanza poi però sappi che corri il rischio maggiore i genitori che devo stare a casa perché ci sono i genitori bene allora assumi una disciplina su te stesso da monaco tibetano e fai quello che devi fare quindi distanziamento mascherine anche dentro casa e cerca di evitare il contagio sia dei tuoi genitori che fuori insomma ci sono mille modi per evitare di somministrarsi un qualcosa che ancora a una certa età potrebbe non essere conveniente ma evidentemente è troppo difficile e quindi si cerca sempre la via più facile uno fa una punturina e dice sono tranquillo ma in questo caso non è così quindi quindi il vaccino va bene io sono favorevole al vaccino perché comunque copre ma soltanto a una certa età e soltanto per quelle persone che veramente rischiano tutti gli altri cioè lasciamo perdere allora andiamo avanti e vedete qua questo è l'altro articolo questo poi è un parere chiaramente ognuno la pensa a modo suo ed è grande e vaccinato all'appello dei vaccini però qui siamo di nuovo sul Corriere Adriatico di oggi all'appello dei vaccini sono assenti in 57.000 il 18% è negli over 60 dopo 4 mesi di somministrazioni 7.000 ultra ottantenni fuori dai radar cioè sono scomparsi non si sa dove sono o meglio evidentemente pur avendo 80 anni si sentono in buona salute e quindi non vogliono rischiare la regione ha già avviato controlli incrociati insieme ai medici di base indovinate per fare che cosa per scovarli diremmo noi giornalisticamente insomma visto che parliamo di caccia ai fantasmi e di scovare queste persone che sembra quasi che si nascondano ma tu sei vaccinato no uno adesso si sentirà in difficoltà a dire oppure mentirà dirà si sono vaccinato gli oltre 15.000 non pervenuti appartengono alla fascia tra i 70 e i 79 anni vedete quante persone comunque ancora insomma non si fidano abbastanza mercoledì arrivate 71.000 dosi di Pfizer oggi arriveranno 3.900 di Johnson cambiamo argomento anche se insomma il covid c'è sempre di mezzo una prova orale la tesina mercoledì c'è la maturità la maturità per quasi 14.000 studenti secondo esame di stato in emergenza covid in emergenza covid 358 sono le commissioni è cominciato dunque questo corso questo conto alla rovescia per l'esame di maturità il secondo in piena pandemia e quindi adattato ovviamente alle esigenze di una emergenza ancora in atto mercoledì inizieranno gli esami per 13.946 studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori andiamo adesso invece sulla pagina di 4 del Corriere perché si parla del Calvario della 14 cantieri da oggi stop tutti fine settimana e pedaggio dimezzato caos traffico vertice regione Marche Aspie Ministero un piano per ridurre disagi termini dei lavori il 9 di luglio andiamo a Fano invece sottopasso chiuso chiede i danni al comune Nino Pierpaoli proprietario dell'ex lago Solazzi avanza una richiesta per 900.000 euro quel sottovia c'era dal dopoguerra vengono le scolaresche in gita il pulmino però passa con fatica e dunque adesso chiede i danni al comune di Fano andiamo invece sulla pagina del Corriere Adriatico di Fano dove si parla del Festival del Brodetto una delle manifestazioni più importanti in tema culinario e no gastronomico la sicurezza della tradizione date tante novità per la Kermes dedicata alla zuppa di pesce più golosa d'Italia dal 10 al 12 settembre dunque queste sono le date ufficializzate si svolgerà questa 19esima siamo già arrivati a 19 19esima edizione del Brodetto Fest sopravvissuto dalla pandemia anche l'anno scorso perché è stata forse l'unica iniziativa che si è potuta svolgere l'anno scorso il pasticcio anzi pasticciaccio di Piazza Costa siamo sempre a Fano figlio di una politica fatta a spot Baldarelli della CNA ribadisce l'esigenza di un progetto complessivo per il centro storico che non c'è mentre sulla Valle del Cesano da San Costanzo Piazza del Castello via ai lavori il baretto non dovrà chiudere per l'intervento di recupero stanziati 300 mila euro ci sarà ovviamente qualche disagio per la sosta a Senigallia arriva la ZTL sul lungomare a Lighieri scatta da domani la versione ridotta chiusura il traffico dalle 22 alle 24 solo di sabato nel mese di giugno da luglio invece tutti i giorni andiamo sull'altra pagina di Senigallia del Carlino tornano i raid dei ladri tre case finiscono nel mirino appartamenti messi a soquadro ma la rifurtiva è stata minima in un caso sono stati messi in fuga dal rientro dei proprietari poi la cronaca con ancora un incidente auto contro motorino un anziano ferito poco dopo le 10.30 di ieri mattina sempre a Senigallia poi pronti per rubare un'auto fermati nel parcheggio gli agenti hanno bloccato due giovani che poi sono stati denunciati anche per porto abusivo di armi e sempre da Senigallia Caterraduno concerto all'alba con Mario Biondi finalmente è stato svelato il nome dell'artista che si esibirà il 18 giugno da oggi scattano le prenotazioni potranno assistere massimo 626 persone verrà preparato un cordone di sicurezza che bloccherà il passaggio nell'area lo sport per chiudere visse la rivoluzione di Bosco preso Giovannelli Dalfano il preparatore atletico protagonista di un ottimo lavoro in Granata Ore a Pesaro lo ha scelto il Presidente che annuncia anche un nuovo tecnico per i portieri sotto invece Alma un mese per chiedere il ripescaggio c'è tempo fino al 19 luglio esaminati i ricorsi per presentare la domanda di riammissione alla Serie C sotto la Vigilar cambia regia via cecato ecco Zonta dal posto del virtussino protagonista della doppia promozione arriva il forte atleta del Castellana Grotte ovviamente stiamo parlando di volley è tutto grazie per aver seguito Occhio ai giornali ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia